Siamo sul viadotto Emera, qui dove tre anni fa ha ceduto un pilone dell'autostrada A19 che collega Palermo e Catania. E dopo oltre mille giorni il ponte non c'è ancora. L'unico collegamento è la bretella di Scillato che passa sotto l'autostrada. Il ministro delle infrastrutture Danilo Tonnelli da qui è partito per un viaggio tra le strade disastrate della Sicilia. Dopo la tappa di Palermo e Catania andrà nell'Agrigentino sul viadotto Morandi e sulla statale 640. Tonnelli invece domani sarà sulle strade delle Madonie, ma sentiamolo. Allora la mia presenza qua è per andare a fare un sopralluogo, una vera e propria ispezione su tutti quelli che sono i cantieri ANAS e RFI. Io li voglio sollecitare, li voglio accelerare perché non è possibile che ci siano tempi così lunghi. Ripeto, lo Stato è tornato, c'è una maggiore presenza e la Sicilia è una delle massime priorità per questo governo. Ora dovrò parlare con il Presidente della Regione. Io penso che è una responsabilità che come Stato ci vogliamo assumere. Ma sono talmente tante le segnalazioni che riceviamo. Province gestite male ovviamente perché c'è stata una riforma del Rio che è stata completamente sbagliata. Oggi è un momento in cui lo Stato deve intervenire ad aiutare, ripeto, i siciliani. Quindi riprendiamoci una parte, facciamo un percorso per riprendersi queste strade perché, ripeto, non è accettabile che ci siano strade con la brodo. I siciliani meritano di vivere in uno Stato dignitoso. Uno dei tavoli più importanti, delicati e tecnicamente rilevanti che stiamo portando avanti è proprio quello sul Codice degli Appalti. Il centro di questo luogo di lavoro è Palazzo Chigi. Tra poco ci sarà una prima bozza. Abbiamo fatto una consultazione pubblica con tantissimi migliari di contributi. L'obiettivo è quello di semplificare, chiarificando, chiarendo quali sono le norme e semplificando finalmente queste norme per sbloccare investimenti.